Vediamo il drop rate Vediamo il drop rate Vai E il primo è bandiera Traverse Bandiera Va bene Va bene va bene ci sta regà Non sto andando ma le 284 Le 278 più vanno bene Questo non è nulla ci sta Un altro che è andato abbastanza male E walk out if Attenzione Blackpool, Rovers, Baretton Baretton, Dias Perché il Bayern ha perso questa Ma ne vince 5 di fila Mamma mia come vanno male questi qui Mi sa che mi faccio gli aggiornamenti ora se continuiamo così Politano Un altro if Costil No Questo drop rate è un po' ambiguo Hmm Un altro Grazie.